Verificare l'efficienza del servizio idrico prestato. Questo sembra essere stato l'oggetto dei controlli eseguiti da più squadre di operai di gegenti acqua e SPA che da diversi giorni hanno effettuato dei controlli incontrata Sant'Anna a Favara. Su segnalazione dei cittadini che lamentavano l'impossibilità di approvvigionamento del prezioso liquido, la società gestore del servizio idrico integrato ha verificato la portata dell'acqua immessa nella condotta. Durante i controlli gli operai hanno anche escluso dalla rete diversi allacci irregolari. La contrata Sant'Anna, maggiormente abitata nel periodo estivo, non è nuova a verifiche simili. Diverse anche le lamentele degli abitanti che nonostante il pagamento delle bollette ricevono l'acqua con il contagocce. L'auspicio è che i lavori eseguiti risolvano definitivamente il problema.